Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon pomeriggio 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 a tutti. Nello stesso tempo non era neanche il telenavoro che aveva disciplinato in Italia, così come non era neanche, e non è stato neanche, almeno in molti casi, per tutti coloro che non erano pronti, per tutte le aziende che non erano pronti, non è stato neanche il lavoro agile, che è una tipologia invece disciplinata appunto dalla legge del 2017. Ci siamo praticamente mantenendo la stessa organizzazione di lavoro, ci siamo ritrovati tutti ripartati in un ambiente diverso, a lavorare e quindi a fare le stesse identiche attività che svolgevamo prima dall'ufficio, a fare appunto un ambiente diverso dalle nostre abitazioni. Tutto ciò appunto, come lei diceva, ha avuto dei limiti, ha presentato delle criticità. Innanzitutto, una prima molto più operativa, rappresentata dalla tecnologia. Non tutte le aziende infatti erano pronte ed erano preparate ad affrontare una situazione del genere. Molti, non sono stati pochi, probabilmente i lavoratori italiani che sono stati addirittura costretti a portare a casa il computer dal lavoro e a lavorare appunto in ambienti poco adeguati. Quindi, altro problema ovviamente, oltre alla tecnologia, quello della sicurezza sul lavoro. Avremmo ricevuto probabilmente un pochino tutti un'informativa sui rischi specifici e generici da parte del datore di lavoro, ma ovviamente gli ambienti non erano ambienti appunto adeguati. Altra criticità che ci siamo trovate ad affrontare in questo periodo è il potere di controllo. Quindi dal punto di vista datoriale sicuramente è venuto a mancare al datore di lavoro un potere per controllare l'operato dei propri dipendenti. Ma sappiamo tutti che siamo stati, diciamo, costretti a rimanere in casa e quindi comunque è subentrato ovviamente al controllo una certa dose di fiducia che è stata inevitabile. Altra criticità, i tempi di riposo, e qui arriviamo anche al diritto alla disconnessione. Infatti, forse è capitato a tutti di accendere il computer appena alzati la mattina, magari mentre si beveva il caffè, ancora in pigiama, così come di spegnerlo la sera prima di andare a letto, dopo scena. Quindi quello che è mancato è stata proprio una regolamentazione di un giusto equilibrio tra vita personale, privata e vita lavorativa. Aggiungerei anche un'altra criticità dovuta da una disparità di trattamento, soprattutto dal punto di vista economico, perché il lavoratore che ha lavorato da casa, diciamo, in smart working per tutto questo periodo, pur lavorando probabilmente di più, non ha sicuramente percepito un compenso per lavoro straordinario, a differenza invece di suoi colleghi che si sono trovati a continuare a svolgere le attività, un'azienda, le attività operative e che ovviamente vengono retribuiti per il lavoro in più smalto. Certo, ma non solo l'errore è stato quello, se posso permettermi di accendere subito il computer, mentre ancora si beveva il caffè, proprio perché la parola chiave di questo spazio è disconnessione, e quindi il contrario è connessione, addirittura avendo tutto sul telefono, perché siamo interconnessi, lo facevamo ancora prima di bere il caffè, quello di controllare le mail, e stessa cosa, probabilmente l'ultima cosa che facevamo prima di chiudere gli occhi, prima di addormentarci, era di controllare ancora le mail, quindi per far capire che cosa ci ha portato anche questo periodo, che poi è quello che diceva lei, dottoressa Ferrantini. Avvocato Boffoli, allora chiedo a lei stessa cosa, a partire dalle criticità, se si può anche immaginare, facciamo un passo ulteriore, uno smart working permanente, però, insomma, dobbiamo ragionare in termini di smart working corretto, altrimenti sbagliamo tutto. Assolutamente sì, nel senso che il Covid, come sappiamo, come è stato evidenziato anche oggi durante queste sessioni, ha praticamente con il Covid, quindi con l'emergenza sanitaria, lo smart working è prepotentemente assorto alle luci della ribalta, come la modalità di lavoro per eccellenza, perché con la chiusura delle aziende, inevitabilmente con i BPCM che hanno consentito la possibilità di uno smart working facilitato e agevolato, quindi senza accordi, è stato l'unico strumento per poter garantire la continuità lavorativa delle aziende, totale o parziale, e consentire comunque così ai lavoratori di poter attendere le loro prestazioni da casa. Però, rispetto a quello che il nostro legislatore, nel 2017, ha immaginato, lo smart working attuale, come ha già evidenziato la dottoressa Ferrantini, è completamente diverso, perché la norma prevede esplicitamente la possibilità di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratori che disciplini le modalità del racconto. Dobbiamo dire che, perché ho detto, lo smart working è prepotentemente assorto alle luci della ribalta, perché in realtà, per quanto la norma piuttosto recente, devo dire del 2017, fa seguito a quella del telelavoro, in realtà queste modalità lavorative sono state sempre un po' timidamente utilizzate, sicuramente per mancanza di cultura e di formazione sul punto, per cui, salvo che nei settori di grande digitalizzazione, dove effettivamente c'era un'esigenza di conciliazione vita-lavoro, vediamo il caso magari delle mamme che dovevano attendere anche comunque alla vita familiare. In tutti gli altri casi, quando anche nelle medie e grandi aziende, si è, passatemi il termine, imposto con accordi sindacali, giustamente all'utilizzo dello smart working, sia le aziende che i lavoratori non erano assolutamente preparati, non erano educati al concetto di una modalità di lavoro comunque agile, che è completamente diversa da quella del telelavoro, come evidenziava anche la dottoressa Ferrantini. Una, devo dire, delle battute più divertenti, se così la possiamo definire, da parte, quindi nella mia esperienza personale, neanche professionale, una volta da parte di un'amica che lavora per una grande azienda, che mi dice, guarda domani se vuoi posso prendermi un caffè, perché tanto sono nella mia giornata Ikea, mi dico, cosa è la giornata Ikea? Smart working, connetto, esco e faccio tutto quello che voglio. Questo perché, incredibile ma vero, perché quando si è approcciato a questo tipo di strumento, nel momento in cui l'azienda in realtà è abituata, e gli stessi dipendenti sono abituati a un lavoro di squadra, quindi a interagire tra loro all'interno di uffici, nel momento in cui si fa ad esempio lo smart working a rotazione, cosa succedeva? Che chiaramente quell'assenza non veniva vista come il collega che a casa mi connetto con lui, ma come assente per qualsivoglia altro motivo. Lo stesso il lavoratore non l'ha vissuta, ho detto salvo che in situazioni particolari, non l'ha vissuta spesso come in situazione di approfitto e lavoro da casa, ma in alcune situazioni, diciamo così, si è un po' abusato dello strumento. Sicuramente quello dello smart working ha tante potenzialità, i limiti sono dati dalla mancanza di conoscenza e di cultura dello strumento, dicevamo sia a livello aziendale che a livello di lavoratori. Sicuramente le potenzialità sono tante, perché come abbiamo avuto modo comunque di verificare anche in questa situazione di emergenza, che con tutta una serie di criticità e limiti ha comunque costituito alle aziende di andare avanti e di tenere comunque in bilico un sistema paese che doveva in qualche modo continuare a creare reddito, seppur ridotto. Quindi oggi, secondo me, partire da questa esperienza, ma ritornando sulla base delle esperienze negativi o di quello che abbiamo potuto vivere come realtà tutti quanti, anche noi professionisti, dovremmo farne tesoro per utilizzare l'esperienza ai fini positivi e capire come implementare meglio questa nuova modalità di lavoro per garantire sia la qualità vita-lavoro dei lavoratori sia anche garantire la produttività comunque dell'impresa. Ecco, ecco, questo è un punto che adesso sostanzialmente giro a mo' di domanda alla dottoressa Ferrantini, perché noi abbiamo parlato di diritto alla disconnessione da parte del lavoratore, però nello stesso tempo c'è il datore di lavoro che anche giustamente deve avere il monitoraggio, perché io lo voglio chiamare così, non controllo, altrimenti parliamo di una cosa negativa, il monitoraggio delle attività, altrimenti se no, insomma, si lascia troppo a libertà e non c'è giustamente anche la possibilità di verificare. Come poter bilanciare questi due aspetti, secondo lei, da un punto di vista legale, d'azienda? Beh, partiamo innanzitutto da quello che prevede oggi la norma. Oggi la norma di riferimento è appunto il Decreto 81 del 2017, l'articolo 19 disciplina e ci parla appunto di potere di controllo del datore di lavoro, ma semplicemente ripiando allo Statuto dei Lavoratori, quindi probabilmente è una norma che andrebbe adeguata per stare anche al passo dei temi e della tecnologia. Le casistiche appunto in cui può esercitare il proprio potere del lavoratore sono quindi ristrette, sono essenzialmente tre, esigenze organizzative e produttive, motivi di sicurezza sul lavoro e totale del patrimonio aziendale. Al di fuori di questo, oggi, il datore di lavoro è diciamo a difficoltà ad esercitare un monitoraggio appunto, chiamiamolo così. D'altro lato ci sono implicazioni anche a livello di privacy, non potrebbe infatti il datore applicare ad esempio dei dispositivi sul PC o comunque sugli strumenti che mette a disposizione del lavoratore che vadano oltre al semplice controllo della presenza o necessari all'esplicamento della prestazione lavorativa e su questo anche il garante privacy infatti ha avuto modo più volte di pronunciarsi. Per cui come si potrebbe fare? Oltre che auspicare senz'altro una riforma diciamo normativa, sarebbe probabilmente il momento giusto affinché il legislatore intervenga su tale questione, nuovamente si potrebbe provare a livello magari di accordi aziendali a trovare una soluzione, rimandando il tutto appunto a quello che è l'accordo delle parti, un pochino come poi ci ridetta per ora anche il decreto 81. D'altro lato ovviamente abbiamo da un lato quindi il potere di controllo, tutta faccia della medaglia potremmo dire che è diritto alla disconnessione, come appunto dicevamo prima, il diritto alla disconnessione che poi di fatto si deve tradurre in un giusto equilibrio tra i tempi che il lavoratore può dedicare e deve dedicare alla vita personale e quelli che invece può e deve dedicare alla vita lavorativa. Quindi sicuramente una diversa, dobbiamo iniziare a pensare ad una diversa organizzazione del lavoro, un'organizzazione che sia più centrata sul raggiungimento di obiettivi che sull'orario diciamo fisso di lavoro, quindi iniziare a pensare anche attraverso del, magari ripetisco dei regolamenti aziendali, ci sono stati in questo periodo infatti delle best practices che sono salite dalla ribalta come aziende magari multinazionali di una certa rilevanza che ad esempio hanno adottato un galateo dello smart working. Sicuramente questi sono dei buoni esempi, so che ne avete già parlato prima, che andrebbero seguiti. Certo, assolutamente sì, beh, Avvocato Bofoli, poi anche per andare verso la conclusione di questo spazio, parliamo anche con lei di organizzazione del lavoro, con l'esperienza acquisita in questi mesi, come guardare al futuro, come cambiare delle cose tenendo presente però che dobbiamo garantire sempre gli stessi diritti, evitando insomma anche distorsioni nell'utilizzo degli strumenti, lo abbiamo già detto prima però concentriamoci sull'organizzazione. Ma io torno un po', richiamo quello che il discorso già fatto precedentemente, quello che noi dobbiamo tenere oggi presente è la norma che già esiste in Italia sul lavoro agile, che disciplina in maniera già abbastanza puntuale quelle che devono essere le modalità del lavoro agile. Diciamo che le aziende nella fretta si sono ritrovate distrette ad adottare chiaramente la forma dello smart working, ma impreparate senza disciplinare gli accordi tra azienda e lavoratore. Questo comporta e potrebbe comportare tutta una serie di problemi finché non si arriva a questo adeguamento. Ma in una visione normale di utilizzo della norma in maniera sana ed efficace, esattamente come previsto dall'81 del 2017, tutti i diritti come quello alla disconnessione vengono in ogni caso comunque garantiti, devono essere garantiti. Questo perché nel disciplinare attentamente, noi di accordi ne abbiamo fatti un po' con le aziende e sono da questo punto di vista molto puntuali, nel disciplinare quelli che devono essere i comportamenti del lavoratore, quelli del datore di lavoro, in questo modo si ha l'effettiva possibilità comunque del controllo da parte del datore sulla qualità del lavoro comunque del dipendente, si ha garanzia anche della tutela della sicurezza, perché noi non dobbiamo dimenticare che lo smart working è semplicemente una nuova e diversa modalità di prestazione lavorativa, ma il rapporto di lavoro resta quello comunque subordinato, per cui il dipendente resterà gerarchicamente dipendente dai suoi superiori o comunque dall'imprenditore, dovrà con un limite di flessibilità ma prestare la propria attività lavorativa in luoghi comunque diversi da quegli aziendali, ma in ogni caso col raggiungimento comunque degli obiettivi. Quello che non dobbiamo dimenticare in tutto questo, sempre per evidenziare quelle che sono le potenzialità di questa norma e non vederla veramente soltanto come uno strumento di flessibilità e di diritto del lavoratore, è l'incipit dell'articolo 18 dell'81 del 2017, il quale prima di parlare di conciliazione vita-lavoro parla tra le finalità della norma della incrementazione della competitività. Noi non dobbiamo mai dimenticare, io diventerò noiosa da questo punto di vista, mi ricordo sempre sia la nostra Costituzione che l'articolo 2104 del Codice Civile, che è la prestazione del lavoratore, deve essere effettuata con la dirigenza dovuta dalla prestazione comunque richiesta per l'interesse dell'azienda e della produzione nazionale. Quindi questa nuova modalità di lavoro ha sempre come finalità non solo quella di conciliare la vita privata e quindi magari in situazioni come dicevamo dove c'è anche tra virgolette, non so, difficoltà di gestione con i figli o altre situazioni o comunque settori dove effettivamente la digitalizzazione è ovviamente maggiore, garantire un'efficacia resa della prestazione lavorativa, ma sempre con la finalità dell'interesse dell'azienda e dell'incremento della produttività. Solo in questo modo lo smart working diventa davvero una modalità di prestazione esattamente proficua che può garantire un accrescimento chiaramente dell'impresa, una nuova modalità proficua per tutti. Assolutamente, sì sì, perché poi questi sono un po' gli scenari che possiamo prefigurarci. Io vi devo salutare, però direi che già nelle riflessioni che abbiamo fatto sono rientrati più aspetti che restano ancora un po' in pending e restano come punti interrogativi. Avremo modo, mi auguro, insieme a entrambe anche in altre occasioni, anche magari nella prossima settimana dedicata all'HR, affrontare tutto questo magari con ulteriori consapevolezze in più, perché poi giorno dopo giorno mi sembra che tutti noi stiamo cercando di acquisirle. Quindi io saluto e ringrazio Tiziana Ferrantini, direzione personale legale Appalti IMAG. Grazie davvero per aver dedicato il suo tempo a noi e di averci spiegato un po' come funziona e come guardare al futuro. Grazie a voi, buonasera a tutti. E grazie a Madarena Boffoli, founder studio legale Boffoli. Ci risentiamo più tardi, diciamo solo questo, avvocato. Va bene, a dopo. Va bene, grazie. Grazie ancora. Ritroveremo l'avvocato più tardi. Andiamo in pubblicità, un piccolo break, il prossimo argomento, sempre rimanendo sullo smart working, flessibilità, ritorniamo su questo concetto e su nuovi modelli organizzativi, altri relatori con noi. Grazie a tutti.